Era indo su commissione che sta qua Entra su commissione, cazzo Ciao ragazzi della terza A di Biggers Oggi la vostra maestra Rita Che sfortunatamente è mia madre Mi ha chiesto di fare un video E quindi quale video migliore se non Arena con boxing e trash No vabbè sono tornata qua, basta Arrivano tutti quanti, è stato tu Ma quant'è sono? Sono qua Quattro, sono quattro Ma che cazzo vuol dire? Tutti i blitz vetti qua Io ne ho ammazzato uno e sono quattro Vi scuso per il linguaggio a scurrire Classe terza B Che poi è terza A, l'ho fatto apposta a chiamarla in terza B Sto tracciato, stacca, stacca Il salto di trash Vai 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 On fire trash, on fire Uno non codo E' un Venom nero Guarda quanto è sveglio Ma l'hai visto? Mamma mia E' che è? No bravo Da dietro Ma l'hai visto? Ma Dio santo che meta di ma... Che giornata di ma... Buona boxing! No Copri, 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 copri Buono 31 Nostra team No è l'evalazione, è l'evalazione, è l'evalazione Non c'ho l'evalazione Parola un altro team Davanti Buono! Filippo, qui, tollo scidore, tollo scidore, tollo scidore, tollo scidore, tollo scidore, tollo scidore, tollo scidore Davanti te Ragazzi un avvio pericoloso, sto qua Ha distrutto completamente Non cado Non cado, non cado All'alpione 14 danno interessante E un c***o, questo Ragazzi, compiti per poi 14 più 21, quando fa? 26 Mamma mia, tocchiarmi di m***a sto capitolo Ragazzi, un d***o, io non ho fatti più Ma finora con le cose E rieccomi in partita Dov'è aver fatto la beniamata Come sempre, l'esabro, a metterci in difficoltà è il numero uno Ma tu non hai idea, sembra l'attacco di Belequist a Belequist Ua, tra un'altra E finita con me Vabbè che l'hanno regalata, per questo ce l'hanno siretti Una femmina Una femmina Ragazzi, c'è uno spider qui che cammina da sola per la strada Provato a spararlo, non ho niente Vabbè, con gli spider man andranno a ragnarare da questa Ah, sì, previ Arrivo in volo, arrivo in volo Sì, arriva su portai 18, sotto la città, quello che vuole 20, 20 L'ho scopato, c'è un medica, se lo vuole 21, 21 77, 77, 77 A me l'ho sfondato E va a cagare, mi ha ammazzato Seconda partita ragazzi Mentre a terra voglio salutare Giovanni Un grandissimo tifoso dell'internazionale Milano Se non mi sbaglio No, non so ne se ci sta un Giovanni Ma so che ci sono un sacco di Juventini Perché sto detto Inter Va bene ragazzi, incastriamoli tutti come l'Astensation Perché mi dispiagno a questi ragazzotti Perché l'ho bullizzato proprio Mi piace bullizzare Ragazzi, ricordate, bullizzare fa bene È giusto Stanno pushando È peggio per loro È davvero peggio per me 47 3-1 Non ceco, attenti Lo vedo che vira un po' troppo Senti sparare Ragazzi, non mi preoccupare Io c'ho fuggito l'assalto Che è peggio è il cecchino Però è caduto sto qua Faccio supporto aereo io A terra Buono? Uncissi Tutti morti? Let's gooo Come alzò Ah, questo con il cecchino Stava con il cecchino E questo Se esiste una persona che dice Che preferisce quel bomba Allo strike o allo tiroso calibro No, è autistico Facciamo qualcuno di voi in base Ragazzi, mi dispiace però Senza bubbi Senza bubbi Mi ha appena stato un'autistica D'autismo da noi Andiamo Uh, c'è gente, boxing c'è gente Un uomo di cartone Eccolo con i buffi Eccolo con i buffi Nooo, che palle Grandi ragazzi Anche questa volta il virus è stato essenziale Guardalo questo qua stava portando Giusto perché Oh no, 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 no Stai, stai, stai toccolo sintilo Sto sintilo, sto sintilo Sto sintilo mi ha fatto male anche lui Comunque qui dentro, qui dentro, un agitino ragazzi, un agitino Viciato? 19? A terra A terra? Stupid boy Sei proprio stupido Oh ma sto qua, ma come cazzo fai stare con questo calibro da vicino? Una finestra era, sparavi a cazzo, comunque dovete evitare qualcuno se ci fosse Perché ci siamo non sentiti avanti come pingutze? E' giusto a me Potrebbe essere che era un maledetto della classe terza C, che voi odiate, vero ragazzi? Che probabilmente non esiste qui Oh sei certo? E non lo ho io Gobe Beh, se non lo muovo, tu vado a andare a prendere Non abbiamo preso ancora Ragazzi qua? E' uno, quindi posso gestimela molto bene Vai E' praticamente ucciso Si, è qua sotto Per la quattro? Sono due Per me sono due team No, è arrivato, è arrivato un altro Sto la su tre, c'è più Mi senti, mi senti alla da Sloan invernale? E' arrivato un altro team ancora Crescino, te lo senti da Sloan? Ehm, la tipa bianca è one shot C'è la tipa è nera, però c'ha il vestito bianco C'è il vestito bianco Ehm, ho noccato uno di quel team Squagliato, ho noccato un altro di quel team Noccato un altro di quel team E' arrivato ragazzi Ma ma di sapo Eh sì, lo trovo nell'angolo giusto per spammare Ma che è? Esiste pure l'angolo giusto per spammare Ma vedi tipo, per tipo Anzi qua c'è un tipo Qua c'è un tipo che ne ho noccato uno e quindi Qua? Si sta ferrettizzando Però poi Atterra Tutte cresce belle Ma zitte Io ho del Natale da adesso E le donne Nooo Cosa sei? Non cago E' quello di prima Quello che si è scappato con la jump 3 Sembra che mi faccio il medico E' finito sparato io Ragà, one shot quello Ma proprio 1 C'è 1 Proprio 1 Sto con la 1 Ok Dietro 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 Sto con la shield pure Io me ne po Eh non si può pezzare la jump vicino agli alberi Insomma anche siamo tornati in zone 2 Atterra 1 Ragazzi stanno senza vita No ma qua stanno arrestando Qua stanno arrestando Eh andiamo Stanno tutti senza vita Qut'affa che le zappe hanno acceso Eh mi dovevo scendare mentre fight Cioè multitasking Multitasking Grazie di aver spaccato l'unica cosa che era la nostra Stai infani è qua Hai fatto l'accidente e morto Lo facciamo? Sì Easy Lo puoi portare cosa si Keg Si Se ne posso portare 2 Eh no l'ho già so del mio questo qua Eh da solo Lasciatelo stare Ok vabbè 48 per fargli capire che comunque non è da solo per avere Noi ci siamo Noi ci siamo E ci facciamo sentire Vabbè sei nascosto negli altri questo qua Non è da solo per avere oltre Stanno per dire Cos'è se ti contare Ma si appena si uccidato Quindi a si uccidata Ancora In acqua senza coprirsi Vai Sparateci uno è one shot e da dove è qua? da dove è bianco guardalo che si fa lo sci... oh ma sono da solo e quello negli altri è vero one shot 35, 35, 35 oh ma quello in zingolo che c***o ragazzi che è meglio che è meglio dello sci... ma sono la nostra taglia si loro cercavano noi non riuscivano nemmeno a trovarsi tra di loro non riuscivano nemmeno a trovarsi tra di loro sta sulle cose questo si va a Geremia sicuro Geremia spremi lo avete fatto gare a me invece di pagare a lui Geremia? è pronto? è morto che scoglio